Non si è mai fermato il Cesena nemmeno per il Capodanno. Gli uomini di Angelini dopo le brevi festività natalizie hanno subito ripreso gli allenamenti sabato al quartiere generale della Celletta. Nell'obiettivo per De Feudis e compagni si sta mettendo a fuoco l'Avezzano che mesi fa aveva creato grandi problemi ai bianconeri nel debutto in Serie D. La distrazione non è però una buona amica. Infatti il cavalluccio è forte del primato in classifica raggiunto a Castelfidardo in concomitanza con un periodo difficile vissuto dal Matelica che ora è sotto ai Romagnoli di quattro lunghezze. All'Orogele Stadium di Romanuzzi domenica alle ore 14.30 sarà Bolgiavera con un tetto massimo di 200 supporter ospiti disposto dalla questura perché i tantissimi tifosi che affolano l'impianto vogliono un altro successo per allargare il gap che separa le due prime forze del torneo del girone F. In infermeria stazionano ancora il lungodegente Andrea Zammarchi il cui problema alla vertebra è rientrato ma non ancora risolto e anche l'attaccante Ciro De Angelis pronto forse fra due o tre settimane. In mediana erano sorti i dubbi sulla possibilità di schierare il titolare capitano De Feudis. Lunedì infatti il centrocampista si era fermato a causa di un accavallamento di un tendine. Dopo un esame strumentale negativo il numero 7 ha quindi lavorato a parte ma non sembra essere in dubbio. Stesso discorso per il terzino sinistro Emanuele Valeri uscito anzitempo contro il notaresco per un dolore alla coscia in questi giorni sta lavorando con il gruppo. La tabella di marcia poi proseguirà da qui fino a venerdì con una seduta unica pomeridiana con la rifinitura fissata a sabato mattina.